La riproduzione della statua di Santoronzo, che da poche ore è tornata nell'omonima piazza leccese, fa nuovamente intervenire il Codacons, che questa volta formula un'istanza di accesso agli atti al Comune di Lecce, per conoscere i documenti relativi ai contratti sottoscritti per i lavori di riproduzione, inclusi gli intermediari e gli sponsor coinvolti, i fondi istanziati e i soggetti beneficiari, i documenti relativi ai pareri emessi dalla soprintendenza. Il dettaglio dei costi sostenuti per l'intervento, il trasporto e il posizionamento della copia sulla colonna, la produzione del videodocumentario e del quaderno volume. Il coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori mette nero su bianco i motivi che lo spingono a volerci vedere chiaro. Visto il lungo tempo passato dall'incarico alla consegna, scrive il Codacons, e le ingenti somme impiegate, la copia avrebbe dovuto essere sintomo di certosina precisione, ma così non è stato immediatamente, infatti, si sono ravvisate nel confronto tra la copia e l'originale molte difformità. Da quanto si nota, il posizionamento della mano destra e delle famose tre dita benedicenti sarebbe difforme rispetto all'originale, una copia approssimativa. Anche le fattezze del santo sarebbero diverse. Quello che tutti abbiamo appreso cinque anni fa, prosegue il Codacons, è che il progetto prevedeva la scansione completa della statua e la realizzazione del calco in gomma siliconica con matrici in resina acrilica, con sussidio della stampa 3D solo per alcune parti non calcabili. Una volta eseguito si sarebbe passati al modello per la riproduzione tramite il getto di bronzo con il metodo della fusione a cera persa. Il costo dell'intervento avrebbe incluso, oltre all'esecuzione, trasporto, posizionamento, videodocumentario e quaderno volume. Intanto un altro dubbio assale qualcun altro. Se sia stata valutata e da chi la capacità della colonna romana di sostenere la nuova statua, che rispetto alla precedente pesa oltre 300 chili in più.